mi sa che qui ci servirà la torcia elettrica che bel punto non è esattamente quello che ti aspettavi già dov'è tutto il maledetto oro questo posto è stato ripulito qualche secolo fa e non sono stati i pirati inglesi infatti non è stato Drake guarda, gli spagnoli sono arrivati qui prima di lui ma che hai, Sally? Nate, non sto cercando uno schifoso pezzo di latta sono indebitato fino al collo ci contavo su questo tesoro troppi conti aperti nei bar di Lima, eh? sì, esatto beh, e poi qualche affare è andato storto ti ho sempre detto di stare alla larga dai mascalzoni e dalle mascalzone eh sì? senti chi parla che vorresti dire? quella reporter ho visto come la guardavi Elena per favore ho smesso di pensarci nel momento in cui l'abbiamo mollata su quel pontile tutto è recito in amore e in guerra e che succede se non distingui l'uno dall'altra? allora mio caro sei proprio nei guai certo che quegli spagnoli hanno lasciato qui un bel po' di robaccia attento Nate è bello alto non stai scherzando? dobbiamo trovare un modo per attraversare dovrebbe funzionare non stai scherzando perché senti dentro ok vabbiamo evitare un'altra buona ora se che è Grazie a tutti. Grazie a tutti.